È uno dei centri di eccellenza dell'ospedale di Careggi, il simbolo del parto naturale. Eppure sono tante le future mamme che hanno visto cancellare il proprio appuntamento nel padiglione della Margherita all'interno del Policlinico Fiorentino e, preoccupate, si sono mobilitate lanciando una raccolta firme, scrivendo a politici e istituzioni. L'attività della struttura è sospesa dallo scorso 8 luglio a causa dell'ondata estiva di Covid, sommata al periodo di ferie del personale. Dovrebbe riaprire a fine agosto o entro i primi 15 giorni di settembre, ma le mamme hanno il timore che non riapra più. In Italia, si legge nella lettera firmata dal gruppo di mamme della Margherita e non solo, i centri specializzati nell'aparto fisiologico gestiti solo da ostetriche sono pochissime. Moltissime donne che hanno necessità di strutture, come la Margherita, che pongono al centro il loro benessere e attuano le loro scelte in sicurezza senza imposizioni, adesso si trovano a dover affrontare una scelta difficile. In assenza di centri nascite come questo, l'alternativa è il parto a domicilio, con costi insostenibili per molte famiglie, costi ovviamente non sostenuti dalla sanità, come invece avviene in altre città e regioni d'Italia, dicono le mamme. La chiusura temporanea del centro Margherita è dovuta a ragioni di natura strettamente emergenziale. La decisione è stata sofferta, replica alla Nazione, l'azienda ospedaliera di Careggi, che ribadisce il costante impegno, insieme al Dipartimento Materno-Infantile e agli operatori, per garantire i massimi livelli assistenziali in ogni condizione. Nella pianificazione delle chiusure estive, quando presente da Careggi, l'azienda non era orientata alla sospensione dell'attività in quest'area, ma purtroppo l'avvento della quinta ondata Covid ha richiesto la riattivazione di un'area dedicata alle parti orienti positive al virus, che sta ospitando giornalmente un numero consistente di donne provenienti anche da altri ospedali. Questo comporta un impegno maggiore del personale interno, nella cui compagine, come sta avvenendo in generale nella popolazione, si registrano diverse positività che ne precludono l'impiego. A tutto questo poi si aggiungono le ferie estive del personale, il che ha portato all'inevitabile sospensione dell'attività per la Margherita.